ignis freddo alluminio nuovissimo superlusso ignis silenzioso solido lucente inattaccabile con l'interno tutto in alluminio per un'igiene più sicura nuovissimo superlusso ignis due apparecchi insieme il congelatore e il frigorifero con le pareti interne in puro alluminio per un freddo più persistente nuovissimo superlusso ignis un vero primato della tecnologia la tecnologia ignis